Ciao, ora ti mostro quanto è semplice usare la social tv tramite la tastiera touchscreen. Basta toccare lo schermo ed inserire il tuo nome proprio qui nel primo riquadro. Qui sotto inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica. Assicurati che sia scritto correttamente. Nell'ultimo riquadro se vuoi lascia un messaggio. Premi il tasto rosso, la tastiera scompare e sei pronto per registrare il tuo videomessaggio. Social TV ti sta registrando un video e scattando due fotografie. In tempo reale li riceverai sulla tua email da cui potrai condividerli sui tuoi social network preferiti.